Che vi è sembrato di questa riunione? Ci sono prospettive future positive oppure tante parole come qualcuno ha detto in sala? Diciamo che la riunione di oggi non è che ci ha soddisfatto in pieno, però a parte il fatto che non sono arrivate risposte a breve, perché noi ci aspettavamo che qualcuno dicesse che alle prossime riunioni che ci saranno succederà qualcosa nel senso di riapertura, perché noi meriamo a far riaprire questo stabilimento nel più breve tempo possibile. Poi c'è stata una delusione abbastanza grande perché ci aspettavamo la presenza dei politici, che purtroppo, non so per quale motivo, ma qui non ci sono. Noi ci contavamo, secondo me, su questo qua, almeno per sentire quali erano le loro impressioni. Vi sentite quindi un po' soli e abbandonati? Ma certo, noi siamo quasi due mesi che stiamo là fuori, stiamo un po' abbastanza abbattuti. La presenza dei politici ci avrebbe un po' risornevato, ci avrebbe anche stimolato un po' nell'andare avanti, credere in certe cose. Noi siamo prima di tutto lavoratori, ma siamo anche elettori. Io vorrei fare un appello a queste persone. Siamo elettori e quindi se certe cose poi vengono, ci ricorderemo di certe cose. Grazie. Grazie.